Sul Mono ha ospitato lo scorso sabato l'inizio del campionato di kickboxing. Al Palasport di Via 25 Aprile si è svolta la prima fase delle qualificazioni abruzzesi per gli interregionali di Kicklight, la versione del light contact che aggiunge alla tradizionale formula la possibilità di colpire con i low kick, cioè con i calci circolari bassi nella parte interna o esterna del quadricipite, l'unico tipo di calcio che si può eseguire al di sotto della cintura. Hanno aderito alla manifestazione numerose scuole per più di 100 atleti. L'organizzazione è stata curata dalla Di Nino Team del maestro Tonio Di Nino. Presente il vicepresidente della federazione, il maestro Riccardo Bergamini. Questa è la prima fase del campionato regionale abruzzese e con l'organizzazione del Di Nino Team di Sulmona che è una scuola storica dell'Abruzzo e il cui rappresentante appunto Tonio Di Nino è anche un arbitro di livello nazionale molto molto ben riconosciuto. La risposta numerica è stata grande, abbiamo circa 120 partecipanti che per una regione piccola come la nostra è un risultato veramente ottimo. Riccardo Bergamini, ex campione del mondo pescherese, è stato eletto nel giugno dell'anno scorso ai vertici della nuova federazione, la FIKBMS, che racchiude le più importanti discipline da combattimento prossime ad un ingresso nel novero degli sport olimpici. Il 9 di novembre di questo mese abbiamo ottenuto, dopo una battaglia durata otto anni, il riconoscimento a disciplina associata effettiva. Questo ci consentirà e noi speriamo nel prossimo quadriennio olimpico di diventare finalmente federazione sportiva nazionale. È chiaro che per arrivare al punto dove siamo arrivati abbiamo dovuto condurre una battaglia grandissima, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista del riordino di tutta la nostra federazione. Siamo veramente felici ed orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo perché questo fa cambiare completamente le prospettive che questa grandissima federazione ha di sviluppo nell'arco del tempo. Mentre noi stiamo facendo questo campione regionale a Roma, si sta tenendo il primo corso da tecnico federale, che ieri sono stato a Roma appunto ad aprire, con 53 tecnici nazionali con qualifica di maestro e con almeno il quarto dan come grado. E questo è un altro passo che noi abbiamo fatto per uniformarci ai criteri SNAC del CONI. Quindi tutto quello che è il lavoro che noi abbiamo svolto in questi anni è stato in termini di uniformarci al regolamento CONI e stiamo cominciando finalmente a raccoglierne i frutti importanti. È stata dunque numerosa l'affluenza di atleti all'evento sulmonese, dai principianti ai professionisti che si sono cimentati in una serie di incontri che hanno portato sul podio quasi tutte le società. In particolare la di Nino Team di Sulmona si è messa in evidenza con l'atleta Alessia Lombardi che ha disputato e vinto una finale con un atleta di spessore delle Marche. Gli atleti della di Nino Team hanno conquistato un oro, un argento e sei bronzi. I cadetti della di Nino Team invece sono stati premiati quasi tutti grazie anche all'istruttore Samantha Marinucci che cura gli allenamenti dei più piccini accompagnandoli fino ai 13 anni.